Von der Leyen ha spiegato al Parlamento le misure, più risparmio che calmieri la Commissione europea si riunisce in queste ore per trovare un accordo sul tetto al prezzo del gas, seppure temporaneo. No a pannicelli caldi è il pensiero dell'euro parlamentare campana Isabella Adinolfi. A differenza di altri paesi, le nostre industrie spiega il settore manifatturiero non possono attendere il rischio che migliaia di posti di lavoro vadano in fumo, senza solidarietà. Il problema è che vedo il Presidente della Commissione, Ursula Mondegale e anche i commissari, vedo molto tentennanti e questo mi preoccupa perché vedo che quando tentennano vuol dire che non vogliono schierarsi contro determinati governi o determinati stati, ma non va bene perché usciamo da già due anni di pandemia, poi abbiamo la guerra e comunque bisognerebbe ripensare tutta l'economia dell'Unione Europea. Ovviamente il tetto al prezzo del gas è un provvedimento fattibile, è un provvedimento giusto. In questo momento ci sono state delle speculazioni, tant'è che l'antitrust in Italia ha già chiesto a quattro società che forniscono energia agli italiani di portare documentazione per quanto riguarda le tariffe applicate. Quindi è chiaro che c'è stata una speculazione a livello europeo, anche a livello delle aziende, ma chiaramente la Commissione Europea ha il potere e la capacità di calmierare queste speculazioni.